14.30 in Italia, delle ore 13.24, per Napoli, Centrale, è il partenso del binario 2. Fernanda, Signore, Cosentino, Parla, Buscato, Qualchia, Piedro, Pese, Perna, Ciclato, Garobo, Dipati, Belvedere, Marittimo, Diamante, Buoncicino, Scalea, Santa Domenica, Donau, Braia, Ieta, Zufra, Marina, Marberto, Marberto, Salve, Policastro, Cosentino, Ture, Orsaglia, Centola, Palinco, Marittà di Cateroca, Bicciotta, Palinco, Ascea, Paglio della Vigana del Castellano, Pignano, Salve, La Croco di Castellavate, Pese, Capacero, Canaspite, Martipaglia, Conte Cagnano, Salve. Tr Ferguson, La Cucinatra, La Cucinatra, Marsata, Palinco, Nanano, Salve, La Cucinatra, Nasa, Giale, Giale, La Capola di Ricola, Cioppaglia, La T Holla, Nasa, Giale, La Cucinatra, Paradiso,issions視 atон Vuittier一 democratic� marc Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.